molto emozionato intanto ringrazio tutti è veramente una serata speciale insomma sono contento ringrazio tutti quelli che sono venuti qua stasera citarle uno a uno sarebbe troppo difficile però veramente è una grande emozione per me rivedere tanta gente che mi ha dato che mi ha insegnato tanti amici che mi sono stati vicini la mia famiglia i miei nonni insomma la mia famiglia per me è speciale da loro ho avuto tutto per cui senza dimenticare poi tutte le persone tutto veramente è qualcosa di speciale sono contento che i miei successi vado rendono orgogliosi la gente di san nicolò di piacenza perché io sono nato e cresciuto qua vedo tanti bambini e gli auguro di di poter vivere le emozioni che ho vissuto io perché sono qualcosa di speciale i compiti bisognava farli perché se no i miei genitori non mi permettevano di andare a giocare perché è giusto comunque studiare perché con gli insegnamenti puoi andare avanti rispettare le regole però vedo tanti ragazzi e penso che sia bello poter giocare per divertirsi perché è molto difficile diventare un giocatore importante e magari diventare un campione però il calcio ti regala delle emozioni straordinarie anche se non si diventa dei campioni si impara a stare con gli altri per cui insomma giocate per divertirvi poi se arriva qualcosa in più tanto meglio vedo qualche mio ex allenatore che mi hanno detto che non ho mai chiesto il cambio mi arrabbiavo quando uscivo però sempre rispetto delle parti però devo dire volevo ringraziare anche Milan Channel perché veramente ha fatto un filmato un bel applauso straordinario molto emozionante insomma sto bene lo spirito è quello giusto mi diverto prima mentre guardavo le immagini ho pensato il giorno che non purtroppo ho pensato il giorno che devo smettere quello sarà il giorno più triste mi piace mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti.